a tutti ragazzi sono amir e bentornati su gameplay channel e su supermarket simulator allora ragazzi dopo la live di ieri sera dove abbiamo sistemato decisamente meglio le casse ci siamo già attrezzati con i freezer che ci serviranno appunto per la prossima licenza quindi abbiamo qua 4 freezer belli vuoti per adesso che poi speriamo di riempire in questo episodio e abbiamo messo anche già un primo doppio scaffale qua perché ci saranno nella nuova licenza anche prodotti che appunto andranno sullo scaffale poi io off camera ho aggiunto anche un altro frigo sempre doppio perché tra i vari prodotti della nuova licenza c'è anche il burro che invece non va ovviamente in freezer ma va nel frigo normale io ho già provveduto a fare un ordine a sistemare un po' meglio il magazzino tra l'altro in live lo dico ovviamente per chi non l'ha seguita abbiamo anche ingrandito ulteriormente il magazzino e così è decisamente decisamente meglio quindi ho ordinato un po' tutti i prodotti che mi servivano e sono rimasto con 664 bei dollarozzi adesso ho aperto l'ho aperto sì ok ho aperto il nostro supermercato e iniziamo per l'appunto la giornata lavorativa lo scopo del diciamo dell'episodio di oggi è quello ovviamente di prendere la nuova licenza che ci costa 1100 vorrei anche quanto prima tirarmi via sto cacchio di prestito perché rompe veramente le balle pagare tutti i giorni 350 o giù di lì dollari di rata del prestito ma mi rimangono come pagamento ancora 2050 dollari da pagare quindi vediamo un attimo tanti di voi ieri sera in live mi hanno detto che con la nuova licenza avremmo appunto il pollo le patatine fritte eccetera si guadagna veramente tanto speriamolo ragazzi speriamolo perché comunque nonostante insomma ci stiamo giocando già da ormai diverso tempo nonostante abbiamo sbloccato diverse licenze ingrandito il negozio eccetera eccetera ancora adesso far soldi non è comunque così così facile perché dovendo ordinare le cose eccetera poi con gli stipendi e tutto diciamo che finisco sempre la giornata sì con qualche soldo ma non è che riesco mai ad abbondare cioè a fare le cose faccio parecchia fatica questo da un lato ovviamente un bene perché sennò vabbè finirebbe un po' tutto il divertimento dall'altro è anche diciamo bello impegnativo quindi speriamo con la nuova licenza di iniziare a guadagnare magari qualche soldarello in più allora io in teoria per oggi dovrei avere tutto formaggio anche ce l'abbiamo adesso andato infatti a metterlo poi vabbè ovviamente adesso finiranno un po' di cose però come detto spero che il guadagno sia abbastanza alto questo oggi da potermi permettere di comprare uno la licenza due tutti i prodotti che ovviamente servono per la licenza stessa perché sennò diventa diventa seriamente un problema quindi speriamo ragazzi speriamo allora vediamo se riesco a mettere un po' di sapone in giro ma no in realtà qua hanno già riempito tutti i nostri magazzinieri quindi direi che va bene così cartigenica va bene ne abbiamo ancora una anche qua un po' di prodotti bene o male li ho vabbè qua sono una cosa di shampoo senti ci sta ecco perché è una scatola per una confezioncina di shampoo direi che non è il caso salve signorina diga 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 forza a comprare forza a comprare gentaglia che devo devo prendere cose io devo comprare cose dai 963 come detto la licenza costa 1100 però poi ovviamente devo avere anche un po' di soldarelli per comprare tutto quello che la licenza mi sblocca quindi se non erro patatine fritte pollo e cos'altro che adesso non mi ricordo allora burro cereali quindi avremo anche un'altra cosa di cereali al miele che dovrebbero essere poi il pollo le patatine fritte la pizza mista e il sacchetto di patatini invece penso siano le patatine quelle classiche da mettere diciamo sullo scaffale che effettivamente ancora non abbiamo come tipologia di prodotto quindi vediamo un attimo se riusciamo a prendere il tutto non ho più pasto ok secondo me magari un sacchettino di pasta mi sa che qualcosina di pasta e anche la farina la no scusami la farina ce l'ho qua chiedo schiuma infatti perché non mi ci stava prima la farina ce l'abbiamo però la pasta no il succo di mela neanche allora facciamo così iniziamo a prendere giusto ste due cose tanto per non rimanere senza quindi diciamo la farina ma aspetta la farina tutte e due si bene ne ho solo due di questa rossa quindi si prendiamo farina prendiamo pasta prendiamo anche l'altra farina vediamo di spaghetti ne ho 4 zucchero a velo ne ho 4 olio ne ho si poi per il resto dai dovrei avere tutto magari prendo giusto un'altra cosa di carta igienica che tanto quella sappiamo andare sempre e va bene così dai per adesso faccio un ordine piccolo perché come detto voglio assolutamente riuscire a sbloccare questa diamine di licenza perché sennò rimaniamo sempre bloccati qua quindi cerchiamo per adesso di comprare giusto quelle due cose che ci servono lo so che spendo di più perché ogni ordine mi fa pagare comunque anche la consegna giustamente perché insomma la consegna si paga però come detto vorrei assolutamente sbloccare la licenza allora il caffè ce n'è però giovini se me lo mettete fuori sto caffè forza un po forza un po a lavorare mannaggia voi mannaggia dai resto per adesso dovrei avere ancora tutto i prodotti qua da frigo quegli ultimi che avevamo sbloccato li abbiamo bravo butta le scatole magari appizzo la luce che inizia a vedersi un po poco ecco dovrò prendere ancora qualche altra luce qua in magazzino avendolo ingrandito magari un altro paio di luci secondo me ci stanno bene però ribadisco per adesso mi voglio tenere assolutamente i soldi per la licenza allora io farei una cosa visto che abbiamo comunque 1800 direi di prendere finalmente la licenza del prodotto e ovviamente tutti i nuovi prodotti che ci servono quindi abbiamo burro io ne prenderei due per tipo se riesco pollo mi avete detto che va un casino quindi va bene speriamo di prenderne abbastanza e anche due sacchetti di patate anzi prendo anche magari dell'altro pollo ok perché tanto immagino che andrà tantissimo e iniziamo a questo punto a mettere il tutto come detto dovremmo adesso anche sistemare tutti i prezzi peraltro prima che la gente mi vada a comprare cose quindi se un attimo fatemi sistemare i prezzi maledetti luridi e che cavolo non faccio in tempo a mettere giù le cose queste sono peggio degli avvoltoi e sti maledetti maledetti infami allora i sacchetti patate sono questi ok no io pensavo le patatine fritte quelle quelle piccoline no c'è il sacchetto quello da sgrano chiare fondamentalmente invece no sono proprio il sacchetto di patate quello da da due chili e mezzo addirittura buono 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 così bene bene va bene allora qua mettiamo le altre patate tanto il prezzo qua l'abbiamo già messo e quindi possiamo metterlo e mo la parte del pollo adesso il pollo io riserverei a sto punto un bel po di freezer da come mi avete detto però vediamo un attimo allora 9 32 9 e 40 come minimo ok sistemiamo no aspetta dammi l'altro pollo eccolo qua così almeno intanto metto questo perfetto poi dovremmo vedere ovviamente di fare diciamo così in magazzino tutta una parte dedicata ai prodotti invece da freezer beh pizze ce n'è tante dentro e porca miseria quante ce n'è quella madonna ma te cacchio ce n'è ma ce n'è tantissime di pizze porcaccia e vabbè qualcuno si lamenta perché non ha trovato probabilmente qualche prodotto di quelli nuovi perché gli ho appena messi quindi da datemi tempo giovani datemi tempo un attimo che c'ho solo due braccia qua ma gli altri prodotti li abbiamo tutti sì ok qua non ho finito nulla sì in teoria dovremmo avere tutto del resto sì ok quindi si stanno lamentando perché non ho ancora messo fuori tutte le altre cose però che devo fa e dovete darmi tempo giovinotti che devo fare cavoli cereali al miele il cereali al miele avrebbe più senso riuscire a metterli qua in qualche modo ma dovrei spostare l'olio e l'olio a sto punto posso metterlo di qua vabbè facciamo una cosa per adesso sistemiamo le altre cose poi poi vediamo sì anche il pollo magari mi conveniva metterlo mi conveniva metterlo messo un po meglio nei freezer però vabbè come detto adesso adesso un attimino no scusami un attimo ma le patatine anno io l'avevo messi qua che scemo che le avevo messi qua le patatons e quindi queste le mettiamo qui ok questa che cacchio è sta roba la pizza la possiamo no col cavolo la pizza non ci sta più va bella pizza inizia a metterla in magazzino magari ma e dovrei prendere un altro scaffale quello del magazzino dovrei prendere un altro scaffale magari ne prendiamo poi un altro e facciamo uno scaffale dedicato solo ai prodotti da freezer così almeno così almeno sto tranquillo così almeno sto tranquillo che si trova tutto ok questo a questo il burro perfetto e il burro a sto punto lo mettiamo per l'appunto qua ok mamma mia ce n'è dentro 24 addirittura perfetto quindi facciamo 24 e 24 di la vabbè non corro per mettere il prezzo tanto ormai la giornata è finita quindi non credo che nessuno mi compri adesso il burro perfettissimo e tac è ok e invece cereali per il momento li metto un attimo qua perché a sto punto cambiamo un secondo la la disposition sapevo di overfare ste cose porcaccia la miseria e ci sta va bene allora i prezzi dovrei averli messi tutti perfettissimo quindi quindi facciamo una cosa allora io bisogno no io ho bisogno di un'altra scatola ecco poi questo il motivo per cui tengo queste scatole vuote qua dietro qualcuno me l'ha chiesto questo qua il motivo perché vedete se io ho bisogno di spostare un prodotto e magari non ho la scatola sua lo posso comunque tranquillamente fare con con queste scatole vuote perché tanto le scatole vuote sono cioè le scatole sono comunque di quattro tipi non ce n'è di più di conseguenza con le scatole vuote potete appunto trasportare che cacchio sto facendo mi serve per quest'altro ok potete tranquillamente trasportare diciamo il prodotto nella scatola della dimensione giusta quindi ecco perché tengo le scatole perché così almeno ne tengo solo quattro cioè una per tipo e posso tranquillamente andare a spostare i vari prodotti laddove ne ho necessità come in questo caso quindi consiglio mio tenete appunto diciamo le le scatole quindi sono quattro perché sono questa qua stretta quella un po più grande quella media e quella gigante per i prodotti più grossi quindi perché non ho spostato quell'olio non lo so va bene va bene allora riprendo un attimo mannaggia me non l'avevo visto non l'avevo visto saremmo scato qua sotto non l'avevo visto però qua è pieno e a sto punto vabbè senti io lo metto qua per adesso perché non voglio tenermi diciamo questa scatola qua sul magazzino che poi se no i magazzinieri me la buttano va bene quindi qua mettiamo i nuovi cereali questa a sto punto la possiamo tranquillamente buttare e poi qua ho l'altra scatola così almeno qua abbiamo fatto tutta la parte di cereali ha sicuramente molto più senso pane cereali mi sembra mi sembra giusto che stiano diciamo insieme perfetto quindi direi che possiamo andare a mettere a sto punto il prezzo di mercato è 5 22 quindi noi li vendiamo a 5 30 perfettissimo così quindi adesso possiamo intanto concludere la giornata abbiamo fatto 45 clienti 4 prodotti non trovati perché come si sblocca la licenza i clienti pretendono di trovare subito le cose sugli scaffali di conseguenza vabbè purtroppo è così abbiamo i cereali ciò capì che qua questi qua che sono aumentati di prezzo perfetto quindi 5 72 noi li vendiamo a 5 80 ottimo poi ce n'era un altro alto ma non so quale sia ma non c'ho voglia di ricontrollarli tutti perché se no fammo notte quindi va benissimo così per adesso va bene così dunque dunque allora ecco adesso si ho una marea di roba da ordinare adesso è vero che ho una marea di roba da ordinare vero anche che abbiamo comunque ancora 1497 dollarozzi allora facciamo una cosa iniziamo a prendere madonna qua la lista inizia a diventare veramente lunga di prodotti la lista inizia a diventare veramente veramente lunga allora facciamo così farei una cosa a sto punto visto che qua ho gli scaffali che possono contenere ancora dell'altra roba nel senso che qua vabbè qualcune cose le ho finite no stavo pensando se mi ci stava tutto perché allora no ma mi conviene prendere un altro scaffale faccia tanto per adesso le bollette le cose le pago poi il prossimo giorno dai per adesso iniziamo a prendere uno scaffale tanto avevo pagato tutto perché non me l'ha dato ah perché non l'ho pagato giustamente mi sembra che mi sembra che corretto quindi facciamo così allora mi metto praticamente qua lo scaffale di fianco a questo scaffale qua dove ho messo i prodotti da frigo qua gli metto invece i prodotti da freezer così almeno ci abbiamo tutto perfetto in realtà solo una cosa di pizza perché poi tutto il resto tutto il resto direi che ce l'abbiamo ancora ok problema che adesso devo ordinare una marea di roba però io prenderei per il momento una confezione sola per prodotto perché se no se no qua rimango subito senza gli sordi e dovrò prendere tutto perché di queste cose qua sicuramente sì poi c'è qualcos'altro qui ancora ma non è che ho niente in grosse quantità a parte il succo d'arancia e questa coca cola qua beh forse anche l'acqua l'acqua l'avevo presa sì vabbè però comunque l'acqua va quindi al massimo la teniamo non è un grande problema però tutto il resto ho finito assolutamente tutto beh farina lì ne avevo ancora sei in realtà pensavo di averla finita ma tanto anche quella sappiamo che va parecchio pane sì ce n'è due scatole però in realtà dentro ce n'è solo quattro quindi comunque pane lo teniamo un attimo qua che tra poco sicuramente lo potremo mettere poi abbiamo invece quest'olio che possiamo sicuramente mettere abbiamo uffurmatch dove ho uffurmatch qua sopra che infatti non ne avevo totalmente più e vabbè come detto ragazzi per adesso inizio a fare un ordine diciamo prendendo una scatola per ogni prodotto poi ovviamente man mano che si guadagna con la prossima giornata andrò a rimpinguare un attimino tutte le varie scorte allora qua la parte dei dolci sì stavo pensando dove avevo messo lo zucchero ma credo sempre qua dove c'è tutto il resto quindi forse lo zucchero ve lo avevo messo qua sotto mi sa di sì mi sa di sì ma poi ho cancellato erroneamente l'etichetta vabbè non è un grande problema allora acqua quella non ce ne sta più quindi per adesso lo metto qua perfetto e qua abbiamo le due cose di caffè acqua ho messo tè e caffè insieme sto cercando anche col negozio come del resto avevo detto in live di dividere un attimino meglio in modo che anch'io riesco a trovare diciamo più comodamente tutte le varie cose ok quindi diciamo che fino all'acqua ci siamo arrivati fino al formaggio anche aspetta fammi vedere formaggio quanto ne abbiamo sì dai per adesso basta tanto in frigo è pieno quindi direi che va bene il caffè l'abbiamo preso quindi anche questo va bene le uova le ho appena prese quindi prenderei il latte quanto ne ho latte l'avevo messo qua ne abbiamo otto quindi latte possiamo anche aspettare partiamo dal tè facciamo tè burro l'altra farina l'altro olio che va bene gli spaghetti non me li ha presi non mi sa di no spaghetti me ne ha presi due uno no uno perfetto spaghetti riso sale sta roba qua sì il succo d'arancia abbiamo detto di no esatto e neanche la coca cola questa quindi prendiamo questo il succo di mela l'altro latte questo no perché non posso ok quindi latte l'abbiamo acquistato prendiamo ste robe qua speriamo che ci bastino i soldi più che altro per prendere tutto ciò che ci serve come detto almeno un pezzo per ogni cosa perché comunque secondo me serve almeno uno di tutto ok dopodiché prendiamo sti cavoli non so mica se ce la faccio a prendere uno di tutto perché abbiamo dove che sono arrivato alla mozzarella ok quindi questo questo secondo me non ce la facciamo oddio i prodotti da freezer è vero che li ho anche appena ordinati quindi effettivamente posso anche aspettare un attimo questi sono appunto i prodotti da freezer beh questi li prendiamo poi il resto delle cose ragazzi aspettiamo quando riapriamo il locale perché se no se no diventa un po' un casino ok allora il tonno ce l'abbiamo qua mettiamo dove sta lassù l'altra farina qua mettiamo a candeggina che non avevo più dai dai andate a lavorare giovini forza un po' carta igienica ce l'avete almeno giusto per avere un po' di cose di ogni singolo prodotto che cacchio ho fatto questa non ci sta quindi la mettiamo qua la aggiungiamo poi dopo perfetto poi abbiamo lo sugar questo qua che possiamo mettere qua sotto vabbè di quello ne avevo in realtà però come detto vabbè tanto sono tutte cose che vanno alla fine non è un grandissimo problema anche la mozzarella anche perché poi tra l'altro mi avete anche detto che una volta fatto diciamo l'ordine da freezer avendo sbloccato appunto la nuova licenza praticamente arrivano molti più clienti ne arrivano più di 50 quindi ho idea che tutta sta roba qua beh i yogurt ne avevo una caterva però va bene tutta sta roba qua la facciamo fuori comunque in relativamente poco tempo insomma per cui secondo me va benissimo così dovremmo prendere mi sa sempre quantità maggiori di roba e di conseguenza non sarà facile non sarà facile allora qua abbiamo la parte dei dolciumi io voglio metterci anche ah perché qua ho messo lo zucchero no fai così allora lo zucchero magari qua c'è sale allora qua ci sono i cereali lì c'è il caffè ma qua cos'è che c'è ah perché ce ne sono due di caffè no qua mi metti lo zucchero anzi contrario scusate un attimo ok allora li mette uno zucchero qua il caffè così facciamo te caffè e lì lo zucchero ci sta e qua nella parte dei dolci il burro d'arachidi che secondo me ha un po' più di senso perfetto poi sapone per le mani tavoletta di ciocolats che ho qua il posto perfetto no cerco anche di non cambiare posto se no poi se no poi mi incasino adesso che ho iniziato a ordinare con insomma un attimino più di senso logico devo stare attento a non far casini perché se no se no poi mi perdo anche perché pian piano sto imparando comunque la disposizione anche del magazzino quindi insomma mi facilita molto il compito anche nel metter via le cose allora il parmigiano lo mettiamo qua sotto poi qua abbiamo le caramellozze caramellozze manca l'etichetta esatto perché andavano qua ottimo poi l'olio questo qua lo mettiamo qui il sale lo sto mettendo qua sopra perfetto ok tanto vabbè poi tante cose non le dovrò più ordinare perché comunque ne ho una bella scorta e va bene perché ordineremo ovviamente qualcos'altro queste le mettiamo qua perfetto quindi sono tutti prodotti da bagno questa la mettiamo lassù bene così dai allora in massima dovremmo avere tutto per poter aprire diciamo serenamente con con questa giornata e quindi vediamo un attimino cosa effettivamente ci porterà questa questa nuova questa nuova licenza ok dai apriamo un attimo il locale così vediamo come come andrà il tutto tanto lui sta mettendo adesso il succo di mela che lì è bello pieno qua tutto il reparto bagno è strapieno quindi non ho problemi qua abbiamo il burro i prezzi dovrei averli messi tutti non ho visto se c'erano prezzi in calo o in salita do una controllata veloce perché non ci ho fatto caso i cereali però forse li avevo aumentati fatemi controllare un attimo prima che li prima che li svendiamo 5,72 sì ok quindi mi sa che erano erano effettivamente solo i cereali credo credo fossero solo i cereali penso proprio di sì penso proprio di sì però poi eventualmente verifichiamo ma dovrebbero essere solo quelli vediamo se mi da qualcos'altro no no non vedo frecce né verdi né rosse quindi no secondo me erano solo i cereali effettivamente che hanno modificato il prezzo sì non vedo nient'altro ok dai si è rimasti con 29 dollari quindi no speriamo veramente di iniziare a guadagnare perché se no la vedo dura se no la vedo dura poi vedremo se la disposizione così va bene inteso come quantità di frigo di freezer anzi per pollo e patatine perché se no al massimo se me ne serve uno in più per il pollo posso mettere visto che le pizze ce ne stanno comunque 16 in una in un lato diciamo nel freezer posso mettere da un lato le pizze dall'altro le patatine fritte adesso vediamo ovviamente sempre in attesa poi di ingrandire ulteriormente il locale e aggiungere nuovi freezer eccetera eccetera insomma perché ovviamente per quello bisognerà avere un attimo de bazienza ah perché qua mi hanno messo ancora anche l'altro olio è vero è perché non gli ho cancellato la targhetta chiedo scusa chiedo scusa errore mio mi sono dimenticato di cancellargli la targhetta eventualmente qua possiamo fare due cioè 4 di farina rossa e a sto punto è 4 di farina blu perché tanto la farina va tanto così togliamo anche la fila a l diciamo così che vi infastidisce infastidisce anche me ma prima per ragioni di spazio mi faceva comodo averla adesso la possiamo tranquillamente togliere fare 4 e 4 così almeno anche la farina che tende a finire abbastanza in fretta ce l'abbiamo senza troppi problemi va bene va bene allora volendo potrei anche già spostarla quindi facciamo una cosa allora posso tirar via l'olio di qua ok mettimelo un attimo qua e cancelliamo qua l'etichetta così i magazzinieri non mi vanno a rimettere l'olio qua dentro ok questa scatola me la tengo qua perché così mi ricordo che è quella che non devo buttare dell'olio perfetto dopodiché adesso se ho ancora sì farina ne ho perfetto posso fare posso fare posso fare posso fare non questa chiedo scusa eh perché mo non me la fa mettere più per terra aspetta eh facciamo così allora dammi quest'altra ok che ne ho ne ho un bel po' posso fare a sto punto così quindi questa la vado a mettere qua sotto perfetto dammi anche questa e la andiamo a mettere qua ok così intanto i magazzinieri mi sistemano eh sta roba quindi questa invece si la posso buttare tranquillamente e la farina invece quella rossa la andiamo a mettere sopra e che cacchio però lo fai apposta allora magazziniere dammi il tempo di far le cose tua mamma è un astronauta ma porcaccia miseria porcaccia ah mannaggia vabbè dammi la scatola mo quale che era questa no questa mi sa che è quella bassa ho idea che sia quella sotto ho idea che sia no forse era proprio questa vediamo un attimo no non è questa ma porco boia mannaggia al magazziniere mannaggia o no non mi fa spostare le cose è questa no devo subito togliere l'etichetta perché se no perché se no me fregano me fregano veramente subito oh sì è questa ok metti una qua e togli mi l'etichetta oh la boh così ste cose le metto qua e siamo a posto poi questa la teniamo qua che come detto ci è utilissima e questa gliela vado a mettere sopra boh perfetto adesso prendimi questa e andiamo subito a mettere la farina qua ok giusto un po' tanto per attivare diciamo così l'etichetta almeno abbiamo due file e due file e siamo a posto no questa è quella della farina quindi la posso buttare tranquillamente ok allora qua vedo che i prodotti da freezer stanno effettivamente andando il pollo ne è rimasto uno quasi pollo vedo che ne prendono una cifra quindi me ne sono rimasti sei di qua e uno di qua sette pollo lo devo ricomprare al volo ma veramente veramente al volo allora iniziamo intanto a prendere almeno tre di pollo a sto punto prendo un altro di cereali burro che qua non l'ho presa prima sta roba e anche il sacchetto di patate dai iniziamo a ordinare ste cose qui perfetto e la miseria che torre di pisa che abbiamo fatto così questi li mettiamo qua questi li mettiamo qua e questi sono già finiti poi mi dai subito vabbè la pizza potevi anche aspettare a dare in realtà la pizza vedo che non va tantissimo quantomeno per adesso poi vediamo se magari aumenterà aumenterà successivamente col passare i giorni però per adesso la pizza vedo che non va effettivamente tantissimo le patatine già di più non neanche tantissimo queste però comunque le patatine già non ci lamentiamo quindi qua mettiamo pizza patatine tac no però devi darmi subito il pollo perché sennò qua sennò qua la vedo dura ok poi si lamentano e si incazzano che non c'hanno il pollo e direi che direi che non è il caso effettivamente pollo ragazzi è come la carta igienica è assolutamente come la carta igienica quindi è un bel casino anche perché poi nella confezione ce ne stanno solo quattro e quindi sono anche molto molto pochi effettivamente allora dai anche i cereali comunque questi qua 9 al miele devo dire che piacciono particolarmente quindi a sto punto anche i cereali io li potrei mettere anzi li vorrei mettere qua sotto però devo spostare un po di roba perché beh quantomeno devo spostare il caffè vabbè per adesso i cereali li metto qua a sto punto posso togliere il sale glielo metto sopra e il caffè poi lo metterò qua così almeno abbiamo abbiamo il posto insomma abbiamo il posto per poter mettere qua sopra il caffè secondo me secondo me ci sta secondo me ci sta dai perfetto poi l'ultimo è il burro che andiamo a rifornire vediamo sì questo lo possiamo tranquillamente mettere via e il burro però anche questo vorrei mettere nei prodotti a frigo ma qua non c'ho più posto vabbè glielo mettiamo qua di fianco dai comunque comunque si vede che sempre lì di fianco direi che ci sta tanto quella è tutta la parte dedicata diciamo alla nuova licenza quindi va benissimo così perfetto qua ha finito la scatola ma questa era quella da non buttare quindi la lascio qua ottimo e adesso sono le 9 di sera però effettivamente è arrivata molta molta più gente vedo che anche ste patate qua vanno tantissimo vanno veramente tanto addirittura sono tornato ad avere le casse piene che era un sacco di tempo anche perché da che avevo messo la seconda cassa francamente non mi era più successo di avere le casse piene invece sto giro sto giro direi di sì ecco mi è finita la carta igienica mannaggia la misera nel sistemare le cose nuove mi sono scordato di controllare vabbè finita solo quella in realtà quindi dai non è un grandissimo problema magari qualcuno si lamenterà che non ha trovato la carta igienica e pazienza userete il giornale stasera stasera ragazzi userete il giornale vabbè e ho d'altronde adesso comunque non posso fare l'ordine perché sono le 9 quindi non me lo consegnano però però va bene dai l'importante che tutto il resto sia stato trovato soprattutto appunto i prodotti nuovi perché da quanto mi avete detto in live sono poi quelli che ci fanno guadagnare di più effettivamente adesso abbiamo già di nuovo 1800 addirittura non posso passare no veramente cioè con la coda mi ah ok adesso sì mi ostacolavano c'era un muro invisibile porca miseria va bene allora fattura a sto punto vabbè paghiamo le fatture visto che abbiamo i soldi tranquillamente per poterlo fare e mi pagherei anche il pagamento così non mi si accumula a quell'altro 1850 per chiudere prestito probabilmente nella prossima giornata magari farò anche quello così ce lo togliamo dalle balle è vero che pago 1850 però non c'ho più il pensiero insomma dei 350 al giorno che sono che sono una bella rottura quindi effettivamente se riesco a togliermi via il prestito sarebbe veramente tanta tanta roba è buono perché allora sono contento di tutti gli ingrandimenti fatti volevo anche vedere tra l'altro la prossima licenza cosa ci sblocca parte costa quasi 2000 ci sblocca il formaggio quindi abbiamo già comunque l'altro frigo disponibile quello dove c'è il burro abbiamo un altro tipo di caffè abbiamo un'altra acqua in bottiglia non so se sarà la bottiglietta forse piccola un'altra cosa di uova la confezione da 12 quindi quella ancora più grossa abbiamo i maccheroni maccheroncini sì credo dovrebbero essere dei maccheroncini poi zucchero burro no zucchero bruno che cacchio c'è scritto zucchero bruno vabbè poi lo vedremo e poi abbiamo un altro tipo di tè quindi insomma un bel po di roba da scaffale quindi qua dovremmo mettere secondo me un altro scaffale in modo da fare da fare un po di spazio e da avere un po di posto in più così magari da riuscire a fare a sto punto visto che abbiamo se non era un altro tipo di caffè o di tè comunque facciamo quattro dedicati al caffè quattro dedicati al tè e così via insomma come del resto poi stiamo facendo bene o male con tutti i vari prodotti l'obiettivo ovviamente quello di arrivare ad avere minimo quattro scaffali per ogni singolo prodotto quindi anche qua devo tirar via magari pasta e riso dovrei riuscire a dividerli e farne appunto quattro di riso quattro di spaghetti e quattro di pasta però devo spostare devo spostare un po di cosa adesso dovrò pian piano riorganizzare il negozio man mano che sblocchiamo le nuove licenze per insomma mantenere comunque un certo ordine un certo senso perché questo mi aiuto ovviamente anche a recuperare subito i prodotti ma soprattutto anche a vedere con un semplice colpo d'occhio cosa manca cosa c'è da ordinare effettivamente questa è una cosa che aiuta veramente veramente tanto va bene ragazzi comunque io direi quindi che posso concludere qua questo nuovo episodio dedicato a supermarket simulator sono contentissimo di aver sbloccato la nuova licenza così finalmente abbiamo anche visto i nuovi prodotti abbiamo finalmente anche sfruttato i freezer che insomma abbiamo comprato per l'appunto in live perché insomma mi scocciava vederli lì vuoti quindi io vi invito come sempre a sostenere questa serie lasciando un sacco un sacco di like condividete commentate iscrivetevi al canale se non siete iscritti attirate alla campanellina delle notifiche e per chi vuole dare un aiuto concreto al canale lo può fare come sempre attraverso gli abbonamenti youtube oltastino grazie di sotto di ogni mio video detto questo giovinotti io vi ringrazio vi saluto e ci becchiamo nei prossimi gameplay ciao belli